All'interno del programma dell'estate fiesolana, nella cornice dell'antico teatro romano, è stato consegnato a Dario Argento il premio Fiesole ai maestri del cinema. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito come di consueto dal Gruppo Toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, dal Comune di Fiesole, in collaborazione con la Fondazione Sistema Toscana. Prima della consegna del titolo al maestro del cinema horror italiano, sulla terrazza del teatro romano di Fiesole si è svolta una tavola rotonda in cui Dario Argento si è confrontato con il pubblico, insieme a Marta Gastini, l'attrice dell'ultimo suo film Dracula 3D. Alla tavola rotonda ha partecipato anche Francesco Bianconi, cantante e leader dei Baustel, e Claudio Simonetti, compositore e musicista italiano, fondatore dello storico gruppo Progressive Rock dei Goblin e autore di tantissime colonne sonore dei film di Dario Argento. Il regista romano non si è sottratto alle molteplici domande del pubblico, sull'origine delle sue pellicole, sull'analisi di ossessioni e tormenti interiori che hanno contribuito alla realizzazione di tantissimi suoi grandi successi, come Profondo Rosso, Suspiria, Tenebre, Il fantasma dell'opera. Maestro Argento, un premio intitolato ai maestri del cinema, una sorta di consacrazione da parte della critica, che lei ha sempre sentito così vicina in tutta la sua carriera? Non tanto vicina, veramente. In ogni modo, recentemente di più, anzi, recentemente posso dire di essere in sintonia con la critica italiana, perché quella straniera mi è sempre stata accanto. Come il pubblico del resto, ora sono 40 anni da Profondo Rosso, un film che ha costituito un po' una svolta, anche i suoi precedenti film che pure erano stati salutati con grande favore. Perché secondo lei ci fu questa svolta? Come? Ma perché pensai di rivescare nelle mie profondità, nelle mie metà oscure, non di raccontare semplicemente una storia gialla, ma qualcosa di più interessante, di più forte. Subito dopo la tavola rotonda, il Teatro Romano di Fiesole si è trasformato in un grande palcoscenico per ospitare il concerto di Claudio Simonetti dei Goblin, sullo sfondo le scene dei film di Dario Argento con le colonne sonore suonate dal vivo. Terminato il concerto del fondatore dei Goblin, si è svolta la cerimonia di premiazione, la consegna del riconoscimento a Dario Argento da parte dell'attrice Marta Gastini e a tarda sera il pubblico ha potuto assistere all'edizione digitale restaurata di uno dei film più famosi di Dario Argento, Profondo Rosso.